Domenica sera ho visto col train alla SNAI. Puntava sulla morte di Pete Doherty, che prima o poi tocca pure a lui e alla sua musica del cazzo, ha detto John con le sue testuali, io John lo ascolto da un po' ma non ci ho mai parlato e allora gli ho chiesto un paio di cose, tipo la prima e la seconda. Doherty era dato 10 a 1 e io ci ho messo su 50 euro ma solo perché John ci teneva. Casa Lecchio comincia a gridare, aria pesante su Caimano 2 e paga da bere a tutti. Intanto Pete Doherty lo danno 15 a 1. Alla faccia di Amy Winehouse, Kurt Cobain e Tony Montana. Ciao! 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 Grazie a tutti.